Negli studi romani dell'agenzia Italpress con il presidente dell'Empam Alberto Olivetti. Presidente, buonasera. Buonasera. Presidente, negli ultimi otto anni di sua guida all'Empam è riuscito a ottenere un risultato molto importante. Il patrimonio dell'Empam è cresciuto di oltre 10 miliardi. È soddisfatto dei risultati ottenuti? Sono molto soddisfatto dei risultati ottenuti dalla mia squadra perché ovviamente non è un risultato personale. Abbiamo aumentato il patrimonio quasi a raddoppiarlo e devo dire che una quota parte di questo è nata dalla creazione di valore negli investimenti patrimoniali di tipo finanziario e immobiliare. Quindi abbiamo una riserva adesso più importante e possiamo affrontare meglio quello che ci presenta il futuro. Quindi le varie sfide legate alla previdenza, all'aspettativa di vita che sta aumentando, al cambiamento in corso. E per noi che siamo dei professionisti anche un cambiamento tecnologico, quindi anche sul nostro operare professionale. E poi anche agli effetti economico e sociali che si prevedono a seguito di questa emergenza epidemiologica della pandemia che abbiamo appena superato. Presidente, è chiuso un periodo, se ne apre un altro, altri cinque anni, è stato appena rieletto alla presidenza dell'Empam. Quali sono gli obiettivi del suo prossimo mandato? Gli obiettivi del mio mandato sono, la prima cosa è quella di passare in maniera funzionale da un patto tra generazioni ha in realtà uno scambio tra generazioni. Il patto deve essere un patto professionale, in una professione medica che venga rilanciata e aggiornata ai tempi. Però nello stesso tempo ci deve essere uno scambio tra generazioni, in un circuito tra generazioni diverse, che sia molto vicino alle esigenze di queste generazioni e che perveda una previdenza, non solo centrata sui periodi post-lavorativi, ma anche centrata sui momenti lavorativi, sulla qualità della formazione, sulla capacità di poter lavorare in maniera tranquilla, se pensiamo alla genitorialità, se pensiamo all'accesso al credito, e quindi poter conciliare la fase post-lavorativa, la fase lavorativa, per far sì che tutti i componenti di questo circuito generazionale possono avere un supporto che garantisca una certa equivalenza tra quanto contribuiscono e quanto poi in sostanza ricevono. Questo è un primo punto. Il secondo punto è essere veramente autonomi nel poter gestire con flessibilità le leve di questo sistema, anche dal punto di vista economico-finanziario. Il terzo passaggio è fare una cultura previdenziale che riteniamo indispensabile, perché oggi in realtà la previdenza non viene particolarmente assegnata e studiata. stiamo molto attenti quindi a quelli che sono i driver del cambiamento nel futuro, al punto tale che ho voluto provocare, identificando un dipartimento del futuro all'interno dell'ente di previdenza. In ultimo, parlare della professione medica. La professione medica è una professione che si pone in un punto di mezzo tra quello che è il mercato, che sappiamo non dà pasti gratis, e dall'altro lato invece quella che è l'esigenza e l'efficientismo manageriale e burocratico di far tornare i conti. Il professionista medico invece in realtà ha l'obiettivo di promuovere e tutelare la salute, quindi fazioni di questo genere, grazie a un bagaglio di competenze e conoscenze che viene riconosciuto anche dallo Stato, ed è per questo che siamo degli ordini professionali, in cui la finalità è indirizzata verso la tutela della salute, che è un obiettivo di rango costituzionale, nello stesso tempo l'esercizio professionale è un esercizio che deve essere indipendente, basato però sul giusto equilibrio tra l'autonomia professionale e la responsabilità che si esercita. Questo è un professionalismo che si colloca appunto tra le logiche del mercato e le logiche della medicina amministrata. Noi vorremmo poter lanciare meglio questa sostanza professionale perché poi da questa nascono i contributi che permettono la gestione previdenziale. Ringraziamo Alberto Olivetti, presidente EMPAM. L'appuntamento è con la prossima intervista dell'agenzia Italpress.